qui renti ridando slancio al settore. A Milano ora per i 30 anni di Assogestioni, organizzazione che rappresenta le società che operano nel settore del risparmio gestito. Michela Coricelli. ...da record per i fondi comuni italiani, che si avviano alla chiusura del 2014 con una raccolta di 76 miliardi di euro, 30 miliardi in più dello scorso anno. A Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa di Milano, Assogestioni ha festeggiato i suoi primi 30 anni, ricordando gli inizi e fissando nuove mete. Ricordo che ho iniziato proprio a lavorare in questa industria in quel periodo ed eravamo molto alle prime armi. Insomma, si è creato nel tempo una filiera di competenze professionali che non esisteva e che oggi possiamo dire Milano è una delle protagoniste della gestione in generale della finanza europea. Era il 1984. L'Italia aveva approvato l'anno prima una legge sui fondi e sulla disciplina che controllasse la raccolta del risparmio non bancario. Abbiamo dovuto faticare parecchio perché questa cultura del risparmio gestito si affermasse. Però i risultati si vedono. Tutto è cambiato da allora e continua a cambiare. Uno degli obiettivi dell'immediato futuro è il maggior sostegno al Made in Italy. I fondi si stanno attrezzando per poter fare fondi anche mini bond che potranno essere molto importanti per il sviluppo della piccola e media impresa.